Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay.it Oggi ho deciso di fare il terzo e ultimo episodio dedicato a Ghost in a Tale perché vorrei... Ghost of a Tale, ecco per la precisione perché vorrei trarre un pochino le conclusioni di questo titolo non so se poi vi può piacere l'idea di questo piccolo approfondimento allora in pratica il gioco non è male e se sapete cosa fare, sapete dove andare lo completate in meno di 10 ore è un gioco che magari cercando in internet potreste trovare delle recensioni molto critiche e molto severe nei suoi confronti il gioco è stato finanziato in Indiegogo quindi è un indie proprio puro sangue graficamente bellissimo la storia l'abbiamo vista negli episodi precedenti e raccontata molto bene da soddisfazioni intriga al punto giusto di dire ok andiamo facciamo quella abbiamo visto tante missioni da fare ne ho sbloccate altrettante andando avanti proprio trovando avanti i topi prigionieri costretti a lavorare nella fortezza ci sono altre ambientazioni ancora e tra l'altro le abilità non ho avuto modo ancora di vederle perché si sviluppano più avanti ma in pratica ho visto che sono cose che aumentano diciamo il livello di furtività la forza con cui noi scagliamo le bottiglie in pratica non è nulla che stravolge il gioco ma semplicemente lo migliore ci porta a un livello superiore e la cosa interessante è il fatto dell'equipaggiamento che migliora la nostra furtività la nostra velocità e soprattutto questo anche le skill alcune skill ma la cosa interessante che le volte scorse non vi ho detto è che vabbè potete salvare solo all'interno dei armadi o di nascondigli e che potete travestirvi quindi in pratica come già la missione ci diceva di recuperare i vari pezzi di armature per poter scendere sotto nei sotterrani insomma trovare anche l'antidoto il cambiare diciamo armatura ci permetterà di muoverci all'interno di questo fortino di questo livello insomma senza essere inseguiti e desidero tirare giusto due conclusioni sul titolo il titolo è senz'altro meritevole se vi piacciono le storie comunque con una certa lore originale, nuova, non ispirata a nulla infatti avete visto che c'è proprio la spiegazione di ogni termine, di ogni dialogo e si parla di una città, magari non è a profondità a livello di Dragon Age Origins Dragon Age Origins avevo più libri anche da vedere anche Morrowind, anche Skyrim insomma non è a quel livello lì assolutamente è un action dove se puntate al fatto di uccidere furtivamente di fare cose cattivissime no o scappate o siete furtivi alla fine grosse altre soluzioni non ce ne sono se non quello a distordire ma ad esempio ci serve uno step successivo per fare lo storiedimento alle guardie con il cappello è un po' una forzatura è un modo un po' schematico di dire no, quelli che hanno il caschetto anche se li colpisci dall'altra parte non li fai niente quindi devi per forza upgradarti però graficamente è molto bello ci si muove gradevolissima io credo, punto forte la grafica per una volta è un gioco veramente interessante la grafica se vi piace uno stealth game è il gioco che sicuramente fa per voi è un indie ben fatto ho visto di molto peggio è intrigante il prezzo non è bassissimo perché costa a prezzo pieno 23 euro scontato 15 poi come dicevo qua sotto nei siti trovate il link a Instant Gaming che lo vende a 10 euro e 50 quindi diciamo che col prezzo zero dubbi assolutamente però devono piacervi i giochi così perché alla fine anche andando avanti si troveranno personaggi che ci regaleranno anche completando le queste le skill e se farete tutte 57 le skill del gioco avrete modo di ottenere tutte cioè fate tutte le 57 skill del gioco avete tutte le skill del vostro personaggio quindi insomma è un gioco che non è a bivi non è a scelte multiple non è a una build precisare il personaggio ma alla fine andate a sbloccare è un racconto in pratica dove dovete mixare anche il senso dell'orientamento furtività insomma se avete già spolpato tanti giochi di questo tipo il gioco può far senz'altro per voi questa è la mia conclusione è un gioco che merita assolutamente dovete ovviamente come già detto mille volte in questo video essere appassionati di stealth di avventure di originalità perché è un gioco completamente basato sui topi sui ratti insomma è senz'altro originale ci sono anche diciamo dei cambiamenti di gameplay a un certo punto in cui comunque si possono sollevare oggetti e trasportarli per risolvere dei puzzle magari ambientali o in termini di quest ho parlato con una diciamo locandiera che mi ha detto di andare a recuperare delle api quindi mi si è aperto un'altra quest in cui dovevo fare mille cose diverse ci sono un po' la dark souls delle scorciatori quindi apriamo delle finestre possiamo accedere a a quello che è il cortile che è il hub diciamo che fa comunicare tutte le fasi a un certo punto mi sono trovato in grado di uscire dalla fortezza andare in una zona esterna un cortile esterno dove si accedeva le torri di guardia quindi anche all'ambientazione molto bella con questi colori autunnali il gioco merita spero di avervi fatto cosa che avete gradita e attendo anche un vostro feedback per il futuro se un forma di questo tipo può interessarvi cioè la settimana dedicata a un gioco la nota negativa è che se il gioco non vi piace vi perdete una settimana come vi ho già detto nel video scorso ma insomma sono fiducioso che mi farete sapere il vostro parere con questo è tutto attendo ovviamente trepidanti i vostri commenti qua sotto e alla prossima e ciao ciao grazie a tutti